Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In primo piano c'è il termine della maratona per l'approvazione del bilancio in consiglio regionale. Uno stop che è arrivato nella scorsa notte quando c'è stata l'approvazione del bilancio di previsione, ovviamente come da prassi. Non sono mancate le polemiche, in particolare da parte del centro-destra e c'è stata anche l'assenza del Movimento 5 Stelle. Pochi i fondi per l'istruzione ed il turismo. Vediamo. Un esausto consiglio regionale ha approvato a nottefonda la legge di stabilità, con il sì della maggioranza e il no del centro-destra. Nella lunga maratona inoltre, intorno alle 5 di questa mattina, è stato licenziato il bilancio di previsione 2016. Ammonta a 7 miliardi e 977 milioni di euro, in totale circa 1 miliardo e 400 milioni di euro in più dell'anno precedente. Sul fronte delle entrate si può contare su un avanzo di amministrazione pari a più di un miliardo e mezzo, Mentre 2 miliardi e 790 milioni di euro arriveranno da tributi e gettiti erariali. 237 milioni di euro da trasferimenti correnti. 71 milioni da entrate extra-tributarie. 541 milioni da entrate in conto capitale. 1 miliardo e 797 milioni, infine, arriveranno da partite di giro. Per quanto riguarda le spese, invece, tra le più significative spiccano i servizi istituzionali, generali e di gestione, a cui saranno destinati 438 milioni di euro. All'istruzione e al diritto allo studio vanno soli 4 milioni e 600 mila euro, così come Cenerentola e il turismo, che prende solo 3 milioni e 600 mila euro. All'assetto del territorio e all'edilizia abitativa vanno 30 milioni e 195 mila euro. Allo sviluppo sostenibile, tutela del territorio e ambiente, 50 milioni di euro. Trasporti e diritto alla mobilità prendono 217 milioni. Al soccorso civile vanno 16 milioni di euro. Alla tutela della salute, 2 miliardi e 52 milioni di euro. Allo sviluppo economico, 13 milioni di euro. Tra gli altri provvedimenti collegati ai documenti contabili, ci sono la moratoria all'apertura dei nuovi centri commerciali fino a maggio 2018, la proroga per la sanatoria dei sottotetti e la previsione di servitudi allagamento nei pressi di corsi d'acqua, che istituisce il divieto di qualsiasi tipo di insediamento fino a una distanza di 400 metri dagli argini dei fiumi. Per quanto riguarda l'intesa politica, sempre più vacillante tra la maggioranza e il centro-destra, si è evitato il ricorso da parte della maggioranza alla cosiddetta legge tagliola, che consente di ridurre drasticamente le proposte delle opposizioni a sole 5 per consigliere, in cambio però di qualche concessione al centro-destra. Ai lavori del Consiglio regionale di fine anno non hanno partecipato i grillini saliti sull'Aventino dopo aver occupato gli scranni della Giunta, provocando la reazione rabbiosa del Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, e per questo colpiti da censura dell'Ufficio di Presidenza. E appunto, come detto, non sono mancate le polemiche in questi giorni che hanno portato appunto all'approvazione del bilancio di previsione. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, denuncia il comportamento dell'Ufficio di Presidenza della Regione dopo i fatti emersi dal video girato durante la seduta del Consiglio di martedì scorso. Cinque censure per i grillini che hanno occupato i banchi della Presidenza e nessun provvedimento nei confronti degli esponenti del PD. Vediamo. Tutto nasce perché il Movimento 5 Stelle chiede trasparenza sulle voci del bilancio da approvare. Succede un atto dove c'è un video che parla di quella che è stata un'azione contestata da parte della Presidenza, di una reazione. E poi, alla fine, che cosa succede con il bilancio? Sì, noi abbiamo gridato negli ultimi mesi in Commissione chiedendo i nostri diritti, rivendicando i capitoli di spesa del bilancio, che significa che i cittadini, maggiormente i consiglieri, devono sapere da dove si prelevano i soldi dei cittadini e dove vanno a finire. Non ce li hanno fatti mai vedere. Questo è il punto. Perciò abbiamo messo in atto quella protesta per ottenere i capitoli. Non li abbiamo ottenuti. Oggi hanno approvato alle 5 di questa mattina un bilancio al buio, cioè un bilancio composto da macroaggregati che significa che vogliono fare cose belle magari a Pescara, dicono di farle a Teramo, a Chieti, ma non sappiamo dove si interviene. Per esempio, i poveri cittadini delle case popolari avranno i soldi per la manutenzione delle loro case? Non lo sappiamo. I cittadini che gli ex dipendenti del Ciappi ce li avranno i soldi e stanno manifestando da tempo? Non lo sappiamo. Addirittura ci parlano di 1.700.000 euro per il turismo, poi andiamo a scoprire perché solo qualche piccolo capitolo hanno scoperto questa notte in Consiglio e pare che sia a zero il capitolo di spesa. Allora forse aveva ragione il Movimento 5 Stelle, senza ombra di dubbio. Perché ci hanno negato i capitoli? Perché secondo voi non ce l'hanno fatti vedere? Perché quando non si fa vedere qualcosa evidentemente si nasconde qualcosa. Abbiamo messo in atto una protesta, protesta pacifica, gandiana, non abbiamo alzato un dito, abbiamo semplicemente occupato i banchi perché rivendichevamo questo nostro diritto che è un diritto dei cittadini. Loro si sono avvendati con forza nei nostri confronti. Noi, io e la collega Salah Marcozzi siamo stati oggetti di violenza perché hanno alzato le mani nei nostri confronti e questo pochi lo dicono e non sono stati censurati per questo loro. Al contrario l'ufficio di presidenza ha disposto cinque censure nei confronti dei cinque consiglieri del Movimento 5 Stelle. Questa è una gravissima disparità di trattamento. E il consigliere regionale del PD Camillo D'Alessandro si difende dalle accuse mosse dai rappresentanti del Movimento 5 Stelle dopo il video diffuso sul web che lo riprende durante una lite in aula. Un video montato ad arte, spiega il consigliere che ha poi subito delle minacce sia pubbliche che private. Camillo D'Alessandro, sono arrivate anche le minacce sulla sua posta elettronica e sul profilo di Facebook. Purtroppo sì, questo accade quando si armano le persone di false notizie. È stato diffuso sulla rete un video costruito ad arte nel quale sembra addirittura che io tiro qualcosa a qualcuno quando invece semplicemente cercavo di evitare che un telefonino mi riprendesse senza colpire assolutamente nessuno e per fortuna che ci sono le immagini del consiglio regionale che dimostrano esattamente questo. E poi mi si attribuisce una frase eliminata da un contesto dove io stavo ironizzando con un consigliere di 5 Stelle. La combinazione dell'attacca e cuci in colla ha dato l'impressione di chissà quale atto io avrei compiuto. Il risultato è un'aggressione mai subita sulla rete dai militanti dei 5 Stelle a cui è seguita e è stata condita anche di minacce. Consigliere D'Alessandro, nel frattempo è stato approvato anche il bilancio 2016 la regione Abruzzo. Quali sono le novità? Da un lato la massa debitoria mai accertata perché se l'avessero accertata l'avrebbero dovuto iscrivere in bilancio. Inizia ad essere inserita nel bilancio per cui puliamo i debiti del passato per fare in modo che le generazioni future non vengano ulteriormente appresentite di debiti. La seconda questione è che noi garantiamo partite finanziarie importanti sul sociale, sui trasporti ulteriormente da rimpinguare con i passaggi successivi durante il corso dell'anno e sulla tenuta economica e sociale della nostra regione. Sapendo che l'imperativo del 2016 è il lavoro a tutti i costi, dobbiamo fare in modo che la massa finanziaria disponibile che deriva dalle programmazioni nazionali e comunitari che la regione Abruzzo dispone venga messa nel circuito economico, cosa che non è accaduta nel passato e che invece noi dobbiamo fare in modo che quelli soldi diventano cantiere, economia, finanziamenti alle imprese. Questo è l'impegno che si esprime col bilancio approvato. Ed ora la cronaca si era allontanato da casa lo scorso 28 dicembre, tre giorni di ricerche e poi questa mattina la scoperta fatta da un cacciatore, Francesco Silveri è morto, ritrovato nella campagna tra Camarda e Filetto. È stato ritrovato senza vita di Ilio Francesco Silveri, l'83enne di Pagani che ha scomparso lo scorso 28 dicembre. Questa mattina un cacciatore nella strada tra Filetto e Camarda, frazioni dell'Aquila, località Ornatina, ha notato il corpo dell'uomo a terra nelle campagne. Sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco sarà l'autopsia ora a stabilire le cause del decesso, probabilmente un malore, complice anche il freddo di questi giorni. Diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. L'uomo lunedì pomeriggio si era allontanato da casa a Pagani che è intorno alle 17.30 e non vi ha fatto più rientro. Sono stati familiari a dare subito l'allarme ai Carabinieri. Da un conoscente, Dilio Francesco Silveri, si era fatto lasciare vicino alla sua vecchia abitazione inagibile al centro del paese. Tre giorni di ricerche condotte da Vigili del Fuoco, Forestale, Soccorso Alpino e Carabinieri senza esito, estese anche a Castelvecchio Subequeo, paese d'origine dell'anziano, fino a stamattina il tragico epilogo. Arresti aumentati del 35,44%, denunce diminuite dell'11,58%, il numero dei delitti denunciati all'autorità giudiziaria è sceso del 19,22% e in calo del 14,45% il numero dei delitti rilevati dalle forze dell'ordine. E quanto emerge tra l'altro da un repilogo dei dati reso noto dalla questora di Chieti è relativo all'attività svolta nel 2015, cifre che secondo la questora fanno ritenere senza ombra di dubbio che il senso di sicurezza percepita dovrebbe considerarsi elevato nella cittadinanza della provincia teatina. Tra le maggiori operazioni di polizia giudiziaria svolte dalla squadra mobile nel 2015, la Super Mario Bros che ha permesso di disarticolare un sodalizio criminale in grado di controllare il monopolio dello spaccio di stupefacenti ed effettuare estorsione, rapina e porto illegale di armi clandestine, l'operazione Viribus Unitis che ha disarticolato un sodalizio specializzato nell'acquisizione di aziende in crisi di liquidità. Le micropolveri registrate nella città di Pescara fanno scattare nuovi provvedimenti dal 12 gennaio, targhe alterne, subito riscaldamento contingentato e lavaggio delle strade. L'incontro con associazioni ambientalisti diventa un tavolo di lavoro, il sindaco annuncia dopo l'emergenza riviera pedonale. I rimedi contro lo smog sono stati al centro del partecipatissimo incontro che si è tenuto ieri pomeriggio presso la sala giunta del comune di Pescara, presieduto dal sindaco Marco Alessandrini, dal vicepresidente e assessore alla mobilità Enzo Del Vecchio, dall'assessore all'ambiente Paola Marchegiani, dai presidenti delle commissioni consigliari mobilità e ambiente e a cui hanno preso parte associazioni di categoria ambientaliste, comitati e gruppi cittadini TUA e ACI, tutti convocati per condividere misure che scatteranno dal prossimo 12 gennaio al fine di limitare il livello delle polveri registrato anche in città, come nel resto d'Italia. Nell'immediato si procederà con alcuni provvedimenti sostanziali, ha annunciato il sindaco Marco Alessandrini. Targhe alterne per due giorni interi a settimana e per la durata di tre mesi, il martedì circoleranno quelle pari, il giovedì le dispari. Ordinanza che riduce di un grado la temperatura consentita nei condomini, portandola da 20 a 19 gradi, lavaggio delle strade da parte di Attiva. Accanto a queste misure verranno programmati anche altri interventi che saranno condivisi in un ulteriore incontro, tavolo che l'amministrazione comunale intende organizzare quale strumento di lavoro in cui coinvolgere anche le scuole. Si porranno così le basi per il piano urbano del traffico, lavorando ad uno strumento per la mobilità di aria vasta, immaginando, con soggetti preposti come tua, ipotesi di spostamento attuabili con vettori sia su gomma che ferro e sostenibili all'interno dei tracciati già esistenti, ponendo anche le basi per un vero e proprio piano regolatore dei tempi per monitorare ingressi e spostamenti delle auto. Tutte proposte affiorate dai vari soggetti che hanno partecipato alla riunione e che meritano ulteriori approfondimenti che l'amministrazione non mancherà di fare con gli uffici della mobilità. Infine, l'amministrazione intende sostenere nuove pedonalizzazioni già dalla prossima primavera, una sperimentazione riguarderà la riviera, argomento di cui si è già discusso in giunta al fine di vagliarne la fattibilità e memori del successo riscontrato dalla chiusura del tracciato riverasco la scorsa estate con la notte del Mediterraneo, la concretizzazione. Per altri due mesi i 56 dipendenti a tempo determinato del Comune dell'Aquila potranno tornare a lavorare, il Comune anticipa i fondi in attesa di quelli delle cipe che consentiranno una proroga più lunga. Sarà una buona fine e un buon principio per i precari del Comune dell'Aquila, la giunta comunale infatti ha finalmente varato il rinnovo per i 56 lavoratori con contratti scaduti a tempo determinato che lo scorso settembre non erano stati prorogati. Una possibilità che si è aperta grazie a fondi giunti con la legge di stabilità appena approvata, un rinnovo che poi sarà ampliato con le nuove disponibilità di fondi cipe, una battaglia che i lavoratori conducevano ormai da mesi e che ha provocato malumori e polemiche, scaturite poi con l'occupazione simbolica di Palazzo Fibioni, sede del Comune, da parte dei lavoratori giorno e notte. Due mesi di rinnovo ha annunciato l'assessore Betti Leone grazie a fondi anticipati addetto dal Comune dell'Aquila in attesa di quelli cipe. Un rinnovo che permetterà al personale di rientrare in Comune a svolgere mansioni in settori molto importanti. La giunta comunale ha disposto anche la proroga per gennaio degli incarichi di posizione organizzativa in scadenza il 31 dicembre appunto. Una buona notizia decisamente per i 56 precari, soprattutto perché c'era stata un'interruzione in alcuni servizi e alcune persone addirittura avevano minacciato di denunciare l'ente comunale. Con l'operazione Tallone d'Achille, la guardia costiera di Pescara, in collaborazione con i carabinieri del Nassa, ha sequestrato 9,6 tonnellate di pesce in varie zone di Abruzzo e Molise ed ha elevato sanzioni amministrative totali per 77 mila euro. Fra i sequestri più rilevanti, in particolare in un centro di distribuzione di prodotto ittico di Fossacesia in provincia di Chieti, sequestrati in questo caso quasi 1.600 chili di gamberi rosa con l'elevazione di una sanzione amministrativa di 1.500 euro al titolare del deposito per la violazione della normativa sulla tracciabilità. In due stabilimenti di trasformazione di prodotto ittico nel comune di Martinsicuro, in provincia di Teramo, sono stati rinvenuti oltre 7.600 chilogrammi di pescato vario, privo di documentazione che ne attestasse la provenienza. Arrivano gli auguri di fine anno anche dal senatore Antonio Razzi, tornato in Abruzzo per trascorrere le festività. Vediamo. Come ogni anno torna in Abruzzo per trascorrere qui le sue vacanze di Natale. Antonio Razzi sottolinea sempre il suo attaccamento alla terra natia. Infatti ci sono anche le televisioni nazionali, mi hanno intervistato su questo, io rimango in Abruzzo, i miei, come si suol dire, i miei soldi lo voglio lasciare agli abruzzesi. Il 2015 volge al termine e allora, come si fa sempre in questi casi, si stila un elenco di fatti che lo hanno caratterizzato e soprattutto di mete ancora da raggiungere, di politica e non. Io innanzitutto sono soddisfatto per quanto riguarda la Galleria di San Silvestro che è stata una mia iniziativa interparlamentare dove è stato stanziato 4.950.000 euro e la Galleria di San Silvestro è fatta quasi come in Svizzera. Perfetto, bello, pulito e vi faccio i complimenti a coloro che l'hanno fatto. Per l'Abruzzo invece quale può essere il desiderio per il 2016? Sicuramente far ripartire l'economia, far ripartire anche il commercio e di commercio non ce n'è tanto. Adesso il 29 di gennaio ci sarà l'ambasciatore della Corea del Sud per far capire dove è la capitale, Seoul e io spero che anche lì alla Camera di Commercio di Pescara possano partecipare tanti imprenditori che vogliono avere delle relazioni con la Corea del Sud e questo mi sembra una bella iniziativa. E invece politicamente che 2015 è stato? Parlando di Forza Italia, parlando di Abruzzo? C'è stato un po' di malessere, un mal di pancia e che ce n'è ancora tutt'oggi. Io spero che questo mal di pancia passa e che possa nel 2016 riorganizzarsi alla grande perché ne vale la pena per tutti gli abruzzesi che il centro-destra si uniscono, compatti e che diciamo che sotterrono l'asce di guerra perché non serve a nessuno. E restiamo in tema di bilanci di attività svolta nel 2015 e in questo caso lo facciamo con il primo cittadino di Pescara, Marco Alessandrini. Un 2015 che ha visto Pescara al centro dell'attenzione e spesso delle polemiche, l'ordinanza sul divieto di balneazione, il ponte del cielo, le tasse alle aliquote massime, la spending review e la richiesta di dimissioni verso il primo cittadino. Ma è stato anche l'anno dei giochi del Mediterraneo trasmessi in Eurovisione, l'Expo a Milano, quello degli eventi a basso impatto e a basso costo, come la Notte Bianca, dello shopping, lo street food, i nuovi collegamenti stradali inaugurati, i tanti cantieri in corso d'opera e poi tante battaglie in aula. Marco Alessandrini stila il resoconto dell'anno che volge al termine. Un anno che ha segnato per questa amministrazione un passaggio importante con l'approvazione del nostro piano di riequilibrio. Questa magari è una cosa che non scalda il cuore delle persone, però è necessario sapere che senza basi finanziarie tutto diventa più complicato. Poi c'è il fatto che il tempo ti consente di cominciare a disegnare una trama, una città che tu vuoi migliorare, che immagini sempre migliore. E poi siamo a fine anno ed è anche un'occasione per in qualche modo rivolgersi direttamente alla cittadinanza, per fare alla cittadinanza stessa gli auguri di un buon anno, mostrando da parte del sindaco vicinanza ai bisogni, alle speranze però anche della comunità, perché io penso che la parola speranza sia sovente dimenticata, invece noi siamo un grande paese, siamo una grande comunità e abbiamo tutti gli strumenti e le forze per farcela, per farcela alla grande. Qual è l'ambizione più grande che si può avere per Pescara per il 2016? Pescara deve continuare a crescere, Pescara è la città guida dell'area metropolitana vasta ed è in qualche modo la porta dell'Abruzzo, non solo come recita il suo standard. E quindi noi ci vogliamo continuare a porre come punto di riferimento sostanzialmente per questa area vasta, con l'idea che insieme dobbiamo lavorare per costruirla sempre migliore, sempre più efficace, sempre più prossima ai bisogni della collettività. E dal sindaco di Pescara al sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, anche con lui abbiamo tracciato un sunto dell'attività svolta in seno al comune pinetese. Il 2015 della città di Pineto lo possiamo definire di programmazione, come ha detto in conferenza Sampa, perché? Programmazione perché abbiamo gettato le basi affinché il 2016 sia un anno dedicato alle opere, le azioni importanti è che questo territorio si aspetta. Partiamo dalla sicurezza, quindi guardando al rischio idrogeologico, saranno oltre 3 milioni e mezzo di interventi sul nostro territorio, grazie alla provincia e grazie alla regione. Sicurezza perché parliamo della mobilità sul territorio, quindi se pensiamo alle piste ciclabili, un'opera è stata già appaltata in questi giorni, i lavori sono in corso, verso Borgo Santa Maria continuerà invece nei primi mesi del 2016 avranno avvio le opere per il completamento del bike to cost, quindi il tracciato lungo tutta la costa fino ai confini di Silvi e di Roseto. Sicurezza anche perché abbiamo di recente installato sul territorio, su richieste ai cittadini, anche numerose telecamere. Nonostante difficoltà ha fatto uno sforzo in più per assegnare qualche risorsa in più alle famiglie bisognose. Pensiamo al social market, nei primi mesi del 2016 daremo corso a questo ulteriore importante progetto di aiuto appunto alle famiglie più bisognose. Pensiamo all'ambiente, sono oltre dieci anni e il comune di Pineto ininterrottamente riesce ad ottenere l'assegnazione della bandiera blu. Pensiamo al turismo, lo scorso anno abbiamo investito tanto nell'identificare il nostro territorio per alcuni eventi importanti nell'ambito dello sport, che ringraziamo il Cerrano Outdoors e penso al meeting o piuttosto allo sforzo fatto per instaurare un rapporto e dialogo con il mondo degli alpini. In occasione della dunata stiamo continuando a lavorare su questo senso, sulle iniziative sportive. Quest'anno sarà un anno ricco di appuntamenti sportivi, ma che hanno un significato soprattutto sociale, perché pensiamo che febbraio ad esempio ospiteremo il ritiro della nazionale ciclismo paralimpica con la presenza di Zenardi all'interno della squadra, così come continueremo con il campionato nazionale di bocce per disabili, il campionato nazionale ANED dei trapiantati, fino a proseguire poi attraverso gli altri appuntamenti di nuoto, di calcio, fino alla notte bianca che un po' va a coronare tutte le iniziative sportive dell'anno. Stiamo attivando importanti canali verso l'Europa, di dialogo anche con altri paesi, perché crediamo importante la risorsa dell'Europa come progettazione e anche come crescere il territorio, non solo dal punto di vista economico e finanziario. Un restyling completo per gli impianti idrici della Marsica, fondi per ristrutturare e rigenerare le strutture esistenti e appartenenti al CAM, il Consorzio Acquedottistico di Avezzano. Vediamo. La rigenerazione dei depuratori d'acqua situati nel territorio marsicano avverrà in 252 giorni, con un intervento complessivo di 12.800.000 euro, provenienti dalla regione Abruzzo. E' questo l'obiettivo per il 2016 del Consorzio Acquedottistico Marsicano, cosiddetto CAM. Il progetto è stato illustrato dall'amministratore delegato del CAM e dal consigliere alla gestione. I depuratori da rigenerare sono quelli di Avezzano, Trasacco, Tagliacozzo, Carsoli, Celano e Capistrello, mentre quelli di Gioia de Marsi, Lecce de Marsi e Ortucchio sono da potenziare. Un altro lavoro di adeguamento riguarderà il completamento della rete fognaria della località di Camporotondo, grazie alla copertura di 400.000 euro. Per quanto riguarda i depuratori di Scurcola Marsicana e Luco de Marsi, sono stati inseriti in un finanziamento stanziato dal governo, il cosiddetto Sblocca Italia, per un totale di 2 milioni di euro di fondi. Abbiamo raggiunto un grande risultato, dicono i vertici del CAM, poiché la Giunta del Lazio ha riconosciuto il debito pregresso di 2 milioni di euro e dunque aspettiamo la delibera del Consiglio regionale per recuperare quei soldi. Entro il 2016 contiamo di recuperare anche altri 6 milioni di euro tra amorosità e utenze sommerse. Per quanto concerne i debiti, stiamo snellendo la struttura del CAM e per il momento abbiamo chiuso i conti aperti con i fornitori locali. Il CAM, è stato detto dai vertici, ha anche acquisito finanziamenti attraverso 12 gare di evidenza pubblica che hanno puntato non al ribasso dell'offerta, ma al valore tecnico della proposta progettuale, perché una depurazione più completa ed efficiente significa risanare i debiti accumulati con le precedenti gestioni. Tra i depuratori da rigenerare, quello di Rio Pago otterrà il maggior numero di fondi, 2 milioni circa di euro. Poi ancora a seguire quello di Avezzano con un milione e mezzo di euro, quello di Carsoli con un milione e duecentomila euro circa ed infine quello di Ortucchio con un milione e duecentomila euro. Un presepe permanente di 110 metri quadrati realizzato da un artigiano di Pescara, lui si chiama Mario Londrillo e la storia inizia nel 1980. 110 metri quadrati interamente occupati da scenari pastorali dettagliati. realistici e animati. Suoni, luci, movimenti, un presepe che si sviluppa nel corso degli anni. Tutto inizia nel 1980. Mario Londrillo vuole esaltare il significato più spirituale delle festività e nelle mura di casa inizia a dedicare spazio al suo sogno. Meticolosità nella cura dei dettagli come i movimenti dei pastori o come il vagito di Gesù Bambino o come la disposizione dell'orsa maggiore nello sfondo. Tutti pezzi costruiti e assemblati dalle sue mani dietro uno studio protratto negli anni, corteccia di sughero fatta arrivare dalla Sardegna, sapientemente lavorata per non essere danneggiata dal tempo. Le statuine provengono tutte dal più celebre quartiere di Napoli dedicato al presepe San Gregorio Armeno, una struttura di impalcatura imponente, un impianto audio e uno di luci che scandiscono lo scenario dal tramonto all'alba, compreso il canto del gallo. A testimoniare la bellezza di un lavoro realizzato da Mario Londrino a Pescara ci sono i tanti curiosi provenienti da tutta Italia. Sono venuto da tutte le parti d'Italia vedere questo bellissimo presepio perché è un presepio permanente alla città di Pescara e a tutta l'Abruzzo, anche l'Italia. Ho dovuto creare un presepio permanente, un'opera d'arte a tutta la città di Pescara. Ed ora apriamo la pagina sportiva, parliamo di serie B, arrivano alla fine dell'anno le due compagini abruzzesi in maniera decisamente diversa. Il Pescara si sta godendo le vacanze e la società è pronta ad operare sul mercato per migliorare la rosa. Tra gli obiettivi principali l'attaccante Antonio Piccolo, in caso di suo arrivo potrebbe fare le valigie il centroavanti Andrea Cocco che potrebbe tornare a Vicenza con la formula del prestito, anche se su Piccolo è davvero forte il pressing dello Spezia. In casa Virtus Lanciano invece continuano a tenere banco le voci che riguardano l'ipotesi di una cessione societaria e inoltre sarà prossimo l'esodo di diversi giocatori importanti della rosa rossonera. Staff tecnico e giocatori del Pescara si godono i meritati giorni di riposo e le feste di Capodanno. in attesa di tornare a studare per preparare una seconda parte di stagione che dovrà confermare le certezze acquisite finora per poi compiere un ulteriore salto di qualità che potrebbe portare i biancazzurri a competere per la Serie A diretta. Funzionali a ciò anche le mosse di mercato. Tra quelli in entrate il nome più caldo, come già detto, è quello di Ismail Ekmaidat che arriverebbe in prestito dopo che la Roma ne perfezionerà l'acquisto dal Brescia. L'alternativa è Antonio Zito dell'Avellino, meno giovane ma più scafato per la categoria. Anche Zito risponde ai canoni della mezzala di qualità da mettere a disposizione di Massimo Oddo. Per la difesa si tiene sempre d'occhio Maurizio Domizzi dell'Udinese che comunque ha un ingaggio importante. Per l'attacco il Pescara insiste per Antonio Piccolo in uscita da Lanciano. La prossima settimana le due società si rimetteranno a tavolino. Resta da convincere anche il calciatore sul quale ci sono le sirene di Novara e Spezia. La società Ligure è disposta ad un notevole sforzo pur di accaparrarselo. L'arrivo di Piccolo toglierebbe spazio da Andrea Cocco che è stata una delle delusioni del girone d'andata. Per ritrovarsi l'attaccante potrebbe tornare a Vicenza dove lo scorso anno ha fatto faville e la squadra di Marino che naviga in brutte acque sarebbe stracontenta di riaccoglierlo. Da valutare la formula, forse il prestito. Anche se il presidente Sebastiani parlava di Cocco come una sorta di rinforzo di gennaio del Pescara in attesa della sua esplosione, ma le dinamiche di mercato sono imprevedibili e l'arrivo di un giocatore della caratura di Piccolo potrebbe incentivare l'uscita dell'attaccante cagliaritano. In casa Virtus Lanciano, tra voci di eventuali penalizzazioni e di esodi di giocatori, continua a farsi largo l'ipotesi di una cessione societaria. L'ipotesi al momento resta tale, ma del lavorio c'è. Uomini del gruppo Colasante sono all'opera per studiare la situazione. Il noto imprenditore lancianese è all'estero e non è possibile avere ulteriori dettagli. La famiglia Maio intanto programma la finestra di mercato che al momento si prospetta ricca di uscite. I conti rappresentano la priorità e le partenze permetteranno di monetizzare e consentiranno un alleggerimento del monte stipendi. Il problema è che tutto questo rischia di cozzare contro i propositi di salvezza e per questo i tifosi sono preoccupati. Piccolo, Marilungo, Puccino e Crecco sono quasi da considerare degli ex. Interessi forti anche verso Paghera e Mammarella. Il 2016 sarà l'anno di tanti addi per la Virtus Lanciano. Ed ora chiudiamo con un ultimo servizio. Parliamo di Lega Pro e nel prossimo contributo ripercorriamo un anno davvero particolare per il Teramo. Un anno fantastico fino allo scorso 10 giugno, poi un anno che si è trasformato in un incubo con l'inchiesta sportiva e la Serie B che a causa di quest'inchiesta è svanita. Vediamo. Dal tripudio per la prima storica Serie B al culmine di un campionato strepitoso che ha mandato in estasi una intera città ad un'estate da incubo vissuta sul filo dei nervi e delle tensioni per un'inchiesta sportiva che ha scippato l'agoniato traguardo raggiunto ad un gruppo che sul campo lo aveva pienamente meritato. Il 2015 resterà per sempre negli annali della Teramo Calcio, un anno incredibile dove è successo tutto il contrario di tutto. Quel che resta ai Biancorossi ora è una stagione di Lega Pro disputata tra le macerie di una B che in tanti dei calciatori che sono rimasti pensavano di meritare ma che è rimasta un miraggio, una stagione giocata con quel tarlo in testa che non va più via, più che un tarlo, un macigno, una proprietà anche lei fiaccata da questa vicenda che sembra aver smarrito la via maestra con una progettualità probabilmente da ridefinire. Dal sogno all'incubo, 24 risultati utili consecutivi, un gioco scintillante nobilitato da due attaccanti straripanti nella qualità e nei numeri, uno stadio Bonolis che ha riscritto di partita in partita nuovi record di presenze per un pubblico mai così caldo e numeroso, la spedizione dei Mille di Savona di quel 2 maggio che ha fatto piangere tanti per la gioia, un mese sportivamente da favola aspettando la cadetteria finché quelle lacrime di gioia si sono trasformate in lacrime di sgomento da quelle 10 giugno quando il mondo si è rovesciato. Da fine agosto il verdetto sostanzialmente inappellabile col Teramo sballottato prima in Serie D poi in Lega Pro per un verdetto che ancora continua ad avere dei lati oscuri perché è vero che due persone cruciali nelle vicende della Teramo Calcio, il numero 1 Luciano Campitelli, il presidente e la mente che ha assemblato un gruppo fantastico e che lo ha fatto per anni, Marcello Di Giuseppe, l'allora direttore sportivo, hanno riportato delle pesanti inibizioni e multe, errori evidentemente ne sono stati commessi, eppure allo stato attuale dei fatti non si conoscono giocatori di quel Savona responsabili di illecito. Per coerenza il nostro auspicio è che questi giocatori, se ci sono, rispondano davanti agli organi di giustizia sportiva. Forse sarà anche più facile per molti giocatori e tifosi accettare un verdetto che ancora non viene del tutto digerito, perché poi se non dovessero esserci questi calciatori responsabili di illecito e i 75 punti contro i 71 della seconda classificata dovessero essere veri e pieni, il verdetto saprebbe di più di beffa, cioè una condanna per una partita vera. Chiusa la parentesi, è evidente ora che per il Teramo il mercato di gennaio sarà decisivo per correggere i tanti errori commessi a settembre, ma la fretta e lo stordimento post verdetto hanno giocato brutti scherzi. La squadra dovrà riprendersi subito, restare nelle zone basse e troppo a lungo sarebbe solo che deleterio. Il 2016 dovrà essere un anno di rinascita dalle ceneri degli ultimi mesi. Era questo l'ultimo servizio del TG6 a pochi minuti dalla mezzanotte, è il momento giusto, il momento migliore per augurarvi buon anno. Il TG6 termina qui, ma tornerà nel 2016 a partire da sabato prossimo 2 gennaio con la prima edizione delle ore 14. Dunque buonanotte e ancora buon anno.